Perché ci sono dei momenti in cui esprimere anche il tuo dissenso, le tue perplessità nei confronti del mondo a cui appartieni. Io sono un figlio del sionismo, per dirla in estrema sintesi. Israele per me rappresenta casa, parenti, salvezza. Ci sono dei momenti nei quali pensi che questo sia il modo migliore di aiutarlo a trovare un futuro che è stato rimesso brutalmente in discussione. Infatti quel 7 di ottobre l'ho vissuto con un'angoscia terribile, con l'incertezza. Ma ha senso oggi fare quello che alza il ditino e dice l'avevo detto, quelle cose odiose, o devi stare zitto con la tua gente. Ma stare con la tua gente vuol dire a volte anche riconoscere quella sequenza di errori lunghissima che ha portato a una giornata orrenda come il 7 di ottobre e l'ho messo nella copertina del libro, quella statua di Sansone, il grande guerriero ebreo che nella Bibbia proprio agaggia, fatto prigioniero dai filistei, cioè dagli antenati dei palestinesi, quelli che danno il nome alla Palestina odierna, muore invocando il Signore di dargli le forze, muore Sansone con tutti i filistei e poi la Bibbia aggiunge il libro dei giudici e fu così che il guerriero Sansone, dandosi la morte, uccise più filistei di quanti ne aveva uccisi in vita, è quello che è successo in questi otto mesi, la strage della popolazione civile palestinese ed è una forma di distruzione e autodistruzione per cui siccome Monica tu hai cominciato dicendo che il mio libro vorrebbe dare un senso a quello che accade vorrei smentirti perché non ha senso per me, è profondamente e dolorosamente insensato, è uno scontro fra due popoli destinati a convivere. Gad, la sensazione è un po' quella lì, il dire si cerca un senso ma quello che tu fai e a me ha fatto molta impressione leggendo il tuo libro perché questa è una storia di enormi contraddizioni e sembra che tu scelga pagina dopo pagina di entrare in ognuna delle contraddizioni anche quelle che riguardano te direttamente, non fai sconti, non cerchi scorciatoie, non tagli le curve, vai dentro tutte le contraddizioni, però sono contraddizioni che hanno visto in questi otto mesi il mondo peggiorare significativamente, al di là delle tragedie singole. Perché è diventata una guerra mondiale, è questo che lo rende diverso da altri conflitti magari più sanguinosi o da altre emergenze umanitarie ancora più catastrofiche di quella di Gaza, cioè che nonostante che questo conflitto avvenga in un fazzoletto di terra grande poco meno della Lombardia, Gaza dista 92 km da Tel Aviv, due mondi che sembravano appunto il paradiso e l'inferno che potevano ignorarsi a vicenda ma era evidentemente qualche cosa che prima o poi doveva scoppiare. Questo conflitto locale che avviene in un fazzoletto di terra è diventato il conflitto mondiale che mette insieme la guerra dell'Occidente contro l'Islam che lo minaccia, dei ricchi contro i poveri, dell'uomo bianco contro l'uomo colorato. Voi mi direte che sono tutte semplificazioni assurde ma il fatto che prima i giovani immigrati di seconda generazione tra noi abbiano fatto i cortei in piazza pro-Palestina. Poi gli studenti universitari hanno piantato le tende sventolando la bandiera dei palestinesi. Questa immedesimazione che io non posso liquidare con un anatema dicendo che sono tutti antisemiti, odiano gli ebrei e quindi non prendiamoli in considerazione. Perché è un sentimento ovvio quello di provare una profonda solidarietà per il modo in cui Israele ha reagito cadendo nella trappola di Hamas cacciandosi in un vicolo cieco. Ma se mi permetti, anche approfittando della preziosa presenza di Vittorio Parsi, io vedo se riuscissimo a distaccarci dai sentimenti così laceranti della ferocia di questo scontro. Ancora ieri ne abbiamo avuto una prova, la gioia di chi ha visto liberati finalmente quattro ostaggi e contemporaneamente il luto delle centinaia di persone che hanno perso la vita in quella stessa operazione militare. Se la guardiamo per un attimo da lontano, noi vediamo dei protagonisti della storia, Israele e l'Iran, due grandi imprevisti della storia del Novecento per quello che sono diventati. Un nazionalismo che non a caso le destre di tutto il mondo hanno assunto al loro modello recentemente perché era fondato sull'idea di una omogeneità etnica, lo stato degli ebrei. Non era così nel sionismo delle origini, quello dei miei nonni e dei miei genitori. Lo è diventato più di recente, addirittura con connotazioni religiose. E dall'altra parte la stessa cosa, dal fiume al mare è terra dell'Islam. Si somigliano terribilmente. Ecco, su questo volevo proprio sentire Vittorio Parzi perché è un gioco di specchi tremendo che porta a radicalizzare sempre di più con questo elemento religioso che si va anche a inserire dove non era perché mentre nell'Iran post-rivoluzionario l'elemento religioso è dominante, in Israele è una storia recente dove abbiamo un governo, quello di Netanyahu che si regge poi sull'appoggio di questi religiosi ultraortodossi che portano dentro questo discorso religioso forte in Israele. La torsione religiosa della politica che avvenga a Mosca, che avvenga a Tel Aviv, che avvenga a Gaza o che avvenga negli Stati Uniti, a Washington, non porta mai bene a nessuno secondo me. Con buona pace di chi è convinto che le religioni aiutino a parlarsi. Purtroppo no, cioè la lunga storia dei rapporti tra religione e politica è una storia sanguinosa quant'altre mai. La storia del popolo ebraico nei rapporti con la cristianità, voglio dire, è sotto gli occhi di tutti. L'olocausto è stato solo l'ultimo passaggio di una storia complessa. È tutt'altro che facile. Però secondo me sì, il problema è che un tema come quello del rapporto tra Israele e Palestina, che è un tema che ormai rimonta all'immediato dopoguerra e che non è mai stato di fatto affrontato congiuntamente, ma sempre con l'idea che ci si potesse separare in casa. In fondo la fence, il muro, la barriera esprimeva anche questo. Non solo non faccio passare, manco guardo quelli che sono di là. Sono due mondi separati e questo non ha fatto altro che incancenire la situazione e consente una facile e superficiale, come diceva Gad, reinterpretazione degli eventi molto quick and dirty, cioè pronta e sporca, perché tanto è una vicenda su cui la mia generazione, quella dei miei padri, quella dei miei nonni, aveva un punto di vista perché era sempre lì e i nostri figli hanno magari punti di vista diversi, ma immediatamente legati alla cronaca immediata, perché parlano di qualcosa che pensano di conoscere perché è 80 anni che se ne parla di sta vicenda. E non solo, perché tra l'altro la sensazione forte è che non si riesca in questa storia a mettere niente in prospettiva, Gad. L'altro aspetto è che non si riesce a raccontarla tenendo dentro la contraddizione, che invece è l'elemento fondativo di questa storia in qualche modo. Vedi, quando noi qui a mezz'ora, in questi otto mesi, ne abbiamo parlato tantissimo della questione di Gaza e di Israele, che cosa succede? L'abbiamo notato tutti, che quando noi parliamo per dieci minuti del 7 ottobre, dell'enormità del dolore del 7 ottobre, in contemporanea, sui nostri profili social, veniamo attaccati quando non insultati, perché ci dicono che noi siamo dei filo-israeliani, dei sionisti, ormai si mischiamo tutti i termini, tra l'altro. Se un istante dopo iniziamo a fare un racconto da di dentro, di Gaza, diventa impossibile. La stessa cosa accade uguale e contraria, diventiamo degli orrendi filo-palestinesi, siamo antisemiti e via discorrendo. E tu questa cosa la dichiari fin dall'inizio del libro e dici io sono stato usato tante volte come l'ebreo buono, tra virgolette, e quindi già assumendo dentro una contraddizione. Ecco, è raccontabile questa storia, che devo dire, e dichiaro, io non parlo mai di me in trasmissione, ma è una storia dalla quale io non mi sono mai più staccata e che ho cominciato a raccontare perché Gad, mio direttore al Tg1, con Roberto Fontolan, mi ha spedito a Gerusalemme quando Sharon fece la passeggiata sulla spianata delle moschee e da lì uno, quando la racconta da dentro, capisce che è quasi irraccontabile. È davvero irraccontabile per te? Era il settembre del 2000 quando Sharon fece quella passeggiata sulla spianata della moschee Al-Aqsa e si chiama Diluvio Al-Aqsa, l'operazione orrenda, criminale, che a massa ha perpetrato il 7 di ottobre, per dire come le religioni Vittorio siano centrali, ma anche perché sono state violentamente e sfacciatamente deformate nella propaganda e nel, mi viene da dire, idolatria, sono due grandi religioni monoteiste, l'islam e l'ebraismo, che in realtà si somigliano tra loro più di quanto non somiglino al cristianesimo, nel loro rigido monoteismo, eppure, come dire, qui c'è l'idolatria, qui c'è il feticismo della terra, la terra è santa, la terra ci è stata data da Dio, ma questo è un modo di utilizzare le religioni anacronistico e spazio, anche se ha funzionato, perché hanno preso la guida i gruppi dirigenti dell'una e dell'altra parte, sono impregnati di questo tipo di cultura che nega in assoluto l'altro, nega in assoluto il diritto all'esistenza, alla presenza dell'altro su quella terra che è una terra comune, ci sono 7 milioni di ebrei e 7 milioni di palestinesi in quell'area e o si spiana tutto in un grande cimitero, oppure prima o poi dovranno convivere e dovrà cambiare questo, volevo dire anche a Vittorio, quello che io considero un anacronismo, io come dire, trepido per la sorte di Israele e per il rischio concreto che possa essere considerato di nuovo un impiccio questo luogo degli ebrei per il resto del mondo, un fastidio di cui disfarsi, anche tanti amici di oggi temo che potrebbero abbandonarlo rapidamente, ma Iran e Israele così diversi e così interessanti a dichiararsi nemici mortali, sono due anacronismi in qualche modo, dovranno cambiare forma e natura per accettare che nel mondo contemporaneo una nazione è fatta di più etnie, di più religioni e di popoli con nazionalità anche diverse. Sì, sì.